cari amici di youtube in questo video vi presento una novità per il mio canale questa novità è l'estrazione di un premio di 2 dollari e 50 su paypal per premiare chi mi segue i dettagli sono questi l'estrazione avverrà il 31 dicembre e vi potrete prenotare con un commento sotto questo video entro la mezzanotte del 28 dicembre l'estrazione vedrete in che modo avverrà il metodo di estrazione sarà del tutto casuale e sarà anche abbastanza divertente credo bene alla prossima occasione e un saluto da pietro d'aprile ciao